Professoressa, lei è tra i maggiori esperti giuridici in tema di regolamentazione di strumenti intermediari e operatori finanziari. Dal suo punto di vista, qual è lo scenario che ci aspetta per la professione nei prossimi anni e nel prossimo futuro? Lo sviluppo della professione sicuramente dipende anche dal livello di fiducia che anche il legislatore per quanto riguarda la tutela di investitori riuscirà in generale negli stessi investitori perché a fronte di una maggiore fiducia gli investitori si sentiranno più sicuri magari nel voler diversificare i loro investimenti e quindi seguiti da un consulente, il consulente o consulente indipendente o consulente su base indipendente o consulente non indipendente, l'importante è che il consulente rispetti regole a tutela dell'investitore in particolar modo tutela, trasparenza, correttezza e soprattutto rispetti i doveri informativi e tutto questo può contribuire a innalzare il livello di fiducia dell'investitore nei mercati finanziari e quindi ad investire e a gestire meglio la problematica dell'avversione al rischio.